60 secondi molto golosi Ah ma sei bella, vieni bene Dai che vengo con te Allora qui stiamo nelle stradine del vecchio mercato In cui ci sono tutte le botteghe di un tempo In cui oggi, ancora oggi, i bolognesi vengono a fare la spesa Sei pronto? Adesso andiamo Facciamo la prima tappa e ti faccio assaggiare uno dei prodotti tipici di Bologna Che proprio non si può non provare Mi fa assaggiare la mortadella, sono sicuro Hai indovinato subito, sono troppo banale Bolognese no, no, per carità Entriamo, sei pronto Dai Eccoci qua Martina Dove mi hai portato? Ti ho portato in uno dei benefici storici della città E ti faccio assaggiare prima un po' di salato e poi un po' di dolce Sono d'accordo con te Andiamo Guarda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti